È stata bocciata ieri in commissione al Senato la richiesta di un'ennesima proroga per l'avvio delle procedure di riscossione delle tasse sospese a seguito del sisma 2009 e chieste indietro alle imprese del cratere destinatario del provvedimento perché ritenute aiuti di Stato. E torna la preoccupazione per il destino di circa 124 imprese sulle quali pesa l'ombra della restituzione di circa un centinaio di milioni di euro che a questo punto potrebbe scattare già a giugno, quando terminerà anche l'ultima proroga concessa dall'Europa. I parlamentari abruzzesi stanno riproponendo l'emendamento proprio in queste ore nel corso della discussione in Parlamento della legge di conversione del decreto sblocca cantieri. Dopo la preoccupazione espressa ieri dalla Confindustria Aquilana, il sindaco per Luigi Biondi fa un appello anche alle associazioni di categoria ad alzare la loro voce e ad appoggiare le iniziative del comune. In discussione in aula adesso la legge di conversione del decreto sblocca cantieri, ho chiesto che venissero riproposti gli emendamenti anche in aula. Il tema è che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene che questa proroga possa comportare maggiori oneri perché la Commissione europea potrebbe aprire una procedura di infrazione per i ritardi con cui si sta procedendo a dare corso alla decisione finale del 2015, quella che diceva che l'abbattimento delle tasse erano aiuti di Stato. Mi sembra paradossale, visto che di proroghe ne sono state fatte già almeno un paio e il MEF non ha mai avanzato questo genere di preoccupazioni. Adesso sono anche le categorie, quelle direttamente interessate, che a livello nazionale devono far sentire la propria voce.